Giovanni De Vivo, meglio conosciuto come Giovannone, capogruppo consigliare dell'Udc nel Consiglio Comunale Quartese. Il sindaco l'altro giorno ha dichiarato che la maggioranza 16, però due partiti, noi Sud e Verdi, ancora non sono rappresentati in giunta. Sì, è una cosa che il sindaco ha portato a conoscenza, ma credo che lui si era impegnato che per domani sera c'è la riunione di preconsiglio, lui ha detto che avrebbe risolto il problema. Credo che allo stato attuale la situazione sta svolgendosi in modo costruttivo, positivo, l'impegno di garantire la presenza in giunta anche a noi Sud e ai Verdi è un impegno che il sindaco sicuramente manterrà, certamente manterrà e domani sera credo che questa soluzione sarà ufficializzata. Ma credo che gli elettori si sono espressi quando hanno votato un forte consenso, il 65% a questa maggioranza, non ci si può sottrarre, diciamo, di dare risposte. C'era questo problema della risoluzione della giunta che si è perso un po' di tempo, un po' con l'estate, un po' con una serie di situazioni contingenti, di emergenza e rifiuti, vediamo in città che la differenziata è partita e comunque dobbiamo dare una risposta forte e seria. Oggi si passa alla fase esecutiva, la fase vera, la fase dove questa amministrazione deve dare risposte serie. A proposito del risposto, pare che questa amministrazione manchi di difetto di comunicazione, è vero? Ma diciamo che molte volte dipende da come ci si è abituati. Questa è un'amministrazione che non è di tante parole, se ci avete fatto caso, ma è un'amministrazione di fatto e di fatti. Nel senso che il sindaco non è che abbia sbandierato i 4-20, porterò la differenziata al 25% in un mese. Oggi siamo al 25-26%, ma bisogna dare risposta ai fatti. Vedi, i cittadini di quarto credo che siano stufi dei proclami, delle dichiarazioni. Anche la politica, se ci fate caso, non è che usciamo sempre quotidianamente, ogni volta ognuno di noi viene a dire la sua bravata o stupidaggine televisiva. Oggi la città non vuole chiacchiere. Vuole vedere i fatti che ancora purtroppo non state facendo vedere. Questo ha ragione, però sicuramente, voglio dire, col tempo stiamo cercando serratamente di lavorare, ci stiamo vedendo quasi tutti i giorni per dare risposte. Noi vogliamo dare risposte a questa città, ne ha tanto bisogno. E forse nel passato abbiamo fatto tanti errori. Oggi la classe politica è arrivata al capolinea. O si danno risposte serie a questa città, o se no bisogna avere il coraggio, la capacità, l'intelligenza di andarsene a casa.